Buonasera, signor Lynch, è agosto 10, 2021 e è un monday e qui in Nipols, 92 FF e circa 33-34 celsius e questo significa che è un giorno molto 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 di nuovo, come in questi giorni, in questo periodo e quindi è ovviamente un giorno totalmente di sunny e oggi ho pensato di fatto che la Sceveded aveva una settimana, quindi scegliere, 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 e credo che questo è noticabile da mia face e comunque, come si potete vedere, da la miticale window, dietro me, con i colori di cortina behind me, abbiamo questi bellissimi, 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 e golden sunshine, all along the way. quindi, da la miticale window, con i colori di cortina, e da la mia miticale keyboard, devo aprire che i colori di cortina, e buon everyone, ho un buon il giusto